Canalizzazione del sabato. Phoenix, 3 marzo 2018. Vi saluto, miei cari. Io sono Crayon del servizio magnetico. È tempo di esaminare, solo per un momento, la realtà di ciò che sta avendo luogo proprio adesso. Si stanno manifestando diversi attributi del tempo. C'è il vostro adesso, mentre siete seduti ad ascoltarmi, e c'è l'adesso di altri, mentre mi ascoltano in ciò che pensano sia un dopo. Ma continua ad essere un adesso per loro ed è un adesso per voi. Ed entrambi udrete le stesse cose ed entrambi farete esperienza della medesima energia. Quale adesso è adesso? E la risposta è, sì. Voglio che chiediate a voi stessi che cosa sta succedendo proprio adesso. Parliamo solo per un momento, sia quelli che si trovano in un altro arco temporale che qui, che sono stati condotti a questa voce perché qualcun altro ha chiesto loro di sentire. In altre parole, non è qualcosa che tu faresti, mio caro. E tu sai chi sei. Senza alcun giudizio, è semplicemente un fatto. C'è chi sta ascoltando la voce proprio adesso e che si sta facendo un'idea, se è sveglio, si sta facendo un'idea. Eccomi qui, per lo più seduto, ad ascoltare un uomo in una qualche forma di trance, dice lui, che porta un qualche genere di entità, dice lui, da un altro luogo che è un mistero per tutti. E la coscienza in tutto questo direbbe, non fa per me. Sono qui, sto ascoltando, come regalo verso qualcuno che è accanto a me e che sta altrettanto ascoltando. Ma per me, potresti dire, non voglio far parte di questa roba sconclusionata. Semplicemente non è ciò che mi interessa, non è ciò per cui sono nato. È per altre persone. Ora cominciano le domande. Se siete seri, ora cominciano le domande. Che cos'è che ammorbidisce il tuo cuore, mio caro? Sto parlando a chi pensa che tutto questo sia troppo strampalato. Che cos'è che ammorbidisce il tuo cuore? Credi nell'amore? Ti sei innamorato di un bambino, di un altro essere umano? Hai percepito magari l'amore travolgente della natura? Forse hai avuto un animale di qualche genere, un cane, un cavallo e vuoi solo abbracciarli e tenerli e sentirti sconclusionato. Vedi dove voglio arrivare? Non fa per te, non l'uomo sulla sedia che sta canalizzando un'entità dall'al di là. No, questo non fa per te, onestamente. Ma che cos'è? Ti puoi confrontare con questa cosa. E ti dirò una cosa con cui potresti essere in disaccordo. Sono entrambe strampalate. Entrambe includono qualcosa che ogni singolo essere umano può comprendere e apprezzare. Un'energia di amore multidimensionale che va oltre ciò che il cervello può verosimilmente generare da solo. A volte proviene dalla natura, a volte proviene dall'amore degli animali o dall'amore di un figlio, o anche quando due persone si guardano negli occhi e sentono una connessione inesplicabile, una bellezza inspiegabile. Mio caro, hai appena fatto esperienza del principio di ciò che insegniamo. Non dovrai mai prendere un libro di crayon, non dovrai mai ascoltare un'altra canalizzazione, ma ecco che cosa ti chiedo di fare. Comprendere ciò che ho appena detto. Osserva più da vicino in ciò che è l'amore per te stesso e in questo potresti davvero schiudere una parte di te, che comincia a diventare compassionevole verso altre cose del mondo al di là di quanto tu lo sia ora. Tutto questo potrebbe non fare mai per te. Tutta l'umanità è coinvolta in questo cambiamento. Sia chi crede in ciò che sta accadendo su questa sedia, da quest'uomo, e chi no. Quelli che provengono da quei sistemi di spiritualità, con regole che non permetterebbero loro di venire in questo luogo, sono anch'essi coinvolti nell'astrusità dell'amore di Dio, dell'amore della natura, di quella bellissima energia che scorre tra gli esseri umani. Tutto questo va oltre un sistema di credenze, in un qualcosa che è così grandioso e così grande da racchiudere ogni singolo essere umano sul pianeta. E pone la domanda. Voi chi siete? Stasera mi piacerebbe darvi una serie delle domande più ricorrenti, ma anziché chiamare la canalizzazione. Le domande più ricorrenti del 2018, la chiamerò. Strane risposte. Perché ciò che state sperimentando è diverso. C'è un cambiamento di paradigma, che permette a chi è seduto sulla sedia e che dice. Tutto questo è troppo strampalato per me, di sentire qualcosa. E potrebbero percepirlo senza sapere che cos'è. Non dovete tornare indietro, non dovete farvi coinvolgere da ciò che hanno chiamato l'esoterismo della New Age. Fatevi piuttosto coinvolgere dal comprendere che cosa c'è dentro di voi che genera la compassione e l'amore e seguite quella passione. Questo vi porterà dritti alla sorgente creatrice. Migliaia, migliaia di esseri umani che non metterebbero mai piede in un edificio di culto credono in un Dio onnipotente in quanto creatore del pianeta, perché camminano nella natura e lo sanno. Una volta, ho fatto un'affermazione alle pendici del monte a Concagua e in quel luogo del Sud America ho detto. Tutti gli alpinisti credono in Dio. È un dato di fatto, perché vi sono immersi, quando iniziano a relazionarsi con la sopravvivenza, con Gaia, con la natura, con l'amore del pianeta, con tutte le cose che loro abbracciano così tanto. Si ergono sulla cima della montagna e hanno un'irvana, un'euforia. Amano loro stessi in un modo non egoistico, perché si rendono conto di essere parte del tutto. Anche se l'aria è gelida e c'è carenza di ossigeno, qualcuno si toglie persino la maschera per un momento, solo per dire ciao al Creatore. È di questo che sto parlando. Vedete? C'è molto di più di un uomo su una sedia, che canalizza su un cambiamento. Riguarda l'essenza della compassione, dell'amore e di dove vi conduce. Quale potrebbe essere il passo successivo per voi? Voglio che riflettiate su queste cose, perché in questo cambio di paradigma in cui tutti voi vi trovate scoprirete cose che non vi aspettavate. Alcune saranno i vostri punti di forza, qualcuno avrà un periodo di ricalibrazione, qualcuno attraverserà davvero qualcosa di importante, e nella vecchia energia l'avreste potuta chiamare oscurità negativa, per poter raggiungere un luogo in cui comprendere meglio la luce, per raggiungere un luogo in cui il vostro corpo inizia a curarsi da solo, perché glielo avrete permesso. Ed è questo ciò che accade, quando iniziate a coinvolgervi nelle strampalate cose dell'amore. Il vostro corpo inizia a reagire e quella reazione ha spesso come conseguenza la buona salute, la longevità, una felicità che non pensavate di avere prima, un apprezzamento per le cose belle che prima non avevate. Questo è il tracciato, miei cari, per tutta l'umanità. Il potenziale è qui. Non perché vi uliate a questo movimento, non perché crediate in ciò che sta succedendo qui, ma piuttosto per prendere cognizione di qualcosa di più grande di voi, del quale siete partner che vi ama, e lo potete percepire. Magari per voi è il pianeta, magari per voi è l'amore degli altri, ma lo prendete e iniziate a lavorarci e il resto è il prolungamento della vita. Parlo di cose pratiche qui, perché ciò che sta accadendo nel cambiamento è probabilmente la cosa più pratica che si stia verificando sul pianeta proprio adesso. Tutto intorno a voi, tutto questo subbuglio, tutta questa incertezza, tutto questo cambiamento, miei cari, è tutto parte del mutamento. Qualcosa di cui vi ho parlato per anni sta arrivando, sta a voi adesso. Guardate le notizie. Vi lascio con questo. Chi ha paura per le cose che vede, sono quelli a cui è stato insegnato ad avere paura per le cose che vedono. Chi sta vedendo le stesse cose con una reazione diversa sta usando la raffinatezza, la maturità della conoscenza che questo è ciò che il cambiamento crea. È proprio come veder crescere un giovane, negli anni difficili mentre passa dal bambino all'adulto. La specie umana si trova in questo, proprio adesso, all'inizio della pubertà, del crescere. E con ciò arrivano tutte le rotazioni, i sentimenti, le emozioni che avete visto prima. guardate al futuro con speranza, sapendo che il cambiamento sta accadendo. Non sta arrivando, è qui adesso. È tutto per ora. E così è.